Questa mattina all'alba Martinsicuro e Melito di Napoli, militari della compagnia Carabinieri di Alba Adriatica, coadiuvati in fase esecutiva dei reparti competenti del territorio da unità cinofile e da un elicottero del nucleo di Pescara, hanno portato a termine l'indagine denominata Gomorra Truentina, dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale dell'Aquile su richiesta della locale procura della Repubblica nei confronti di cinque persone ritenute responsabili a vario titolo del reato e di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Le indagini sono scaturite da una denuncia presentata nel mese di agosto da un imprenditore di Ledi Tortoreto, il quale ha riferito ai Carabinieri che qualche tempo prima, trovandosi in gravi difficoltà economiche, aveva venduto un orologio marca Rolex per la somma di 3.500 euro, ad un pregiudicato di origine napoletana da tempo residente a Martinsicuro. Trascorsi alcuni giorni dall'acquisto, il pregiudicato, dopo aver riferito all'imprenditore che l'orologio a suo parere era falso, pretendeva da quest'ultimo inizialmente la restituzione della somma di 3.500 euro, per poi aumentare la pretesa illecita ad euro 5.000. Davanti all'iniziale di niego dell'imprenditore nel consegnare il denaro, il pregiudicato, con l'ausilio degli altri quattro indagati, tre uomini e una donna, anch'essi originari di Napoli ma domiciliati a Martinsicuro, dopo aver rappresentato alla vittima l'appartenenza ad un clan camorristico partenopeo, ha posto in essere nei suoi confronti e nei confronti del padre, reiterate minacce, anche di morte per indurlo a pagare. Al culmine dell'attività delittuosa, gli indagati, stante l'impossibilità della vittima a consegnare la somma richiesta, dopo averla minacciata anche con una pistola, si sono impossessati della sua autovettura, una smart del valore di circa 6.000 euro. Le attività investigative dei carabinieri condotte inizialmente sotto l'egita della Procura della Repubblica di Teramo e successivamente sotto quella della Direzione Distrettuale Antimafia Aquilana hanno consentito l'identificazione degli autori del delitto in trattazione, nonché di riscontrare le dichiarazioni della vittima. È stata altresì recuperata e restituita l'autovettura indebitamente sottratta dagli indagati.